Sì, abbiamo fatto un primo tempo con paura, senza personalità e quasi rassegnato, perdendo quei riferimenti e anche le cose che abbiamo fatto di buono secondo me nella partita di Enzo. Poi sei tornato a farle nel secondo tempo, perché nel secondo tempo hai rialzato i ritmi, hai velocizzato la palla, però non puoi in questo momento concedere un tempo agli avversari, una squadra poi che è forte. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più a livello di personalità, a livello di intensità, a livello anche di voler superare i problemi, perché a volte invece sembra che aspettiamo, non sempre, perché appunto nel secondo tempo non l'hai fatto, neanche l'hai fatto Enzo, però che aspetti, è quasi rassegnato. E questa cosa qua dobbiamo togliercela subito. Vai? No. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio. Lei poco fa ha detto che il primo tempo ha giocato con paura, quasi con rassegnazione, ma lei crede che Roberto Breda, crede che abbia dato tutto a questo Pescara finora? Nel senso, non sa più cosa fare, non sa più cosa provare, è arrivato anche lei, per virgolette, al capolinea delle idee? No, perché alla fine ogni partita ti dà dei segnali e ti dà delle indicazioni. Io penso che la squadra rimanga ancora viva, la dimostrazione nel secondo tempo che non è sbandato e non è preso una valanga di gol, ma da certi punti di vista si è rimasto in partita e potevi anche riaprirla in maniera anche abbastanza evidente. Però è logico che anche io sicuramente devo dare qualcosa in più. Poi io non parto mai dall'idea che è già tutto scritto, anzi, dipende sempre da noi. Logico che da noi, soprattutto per fare qualcosa di importante, per venire fuori da questa situazione, dobbiamo aumentare tutto quello che possiamo dare, perché con questo certamente non basta. Io le ho fatto questa domanda per un semplice motivo, perché a me ha dato la sensazione che la squadra parte a terra fisicamente, alcuni giocatori non pronti. Credo che l'emblema di questo Pescara sia l'asse nordico, quindi mi riferisco a Sorensen e a Odgaard, non parlando anche di altri singoli. Però le faccio questa domanda perché a livello caratteriale vedo una squadra completamente rassegnata e la rassegnazione credo che sia l'alleato peggiore per lei in questo momento. Ecco perché le ho fatto questa domanda se ha dato davvero tutto a questa squadra. Probabilmente un allenatore potrebbe anche essere inerme davanti a una situazione del genere. Allora, non siamo sempre assegnati, perché tu nel secondo tempo non hai giocato dell'assegnato, hai giocato con la voglia di provare a riaprirla, con dei difetti, con delle cose. Sono d'accordo che dobbiamo anche recuperare dal punto di vista della condizione dei giocatori, però allo stesso tempo hai provato anche a fare la partita. Il problema è il primo tempo, ma non è solo una questione dell'assegnazione, bisogna anche metterci un pochino di personalità e cercare di fare tutti qualcosa in più. Perché a dià delle idee si possono provare, ma poi dopo bisogna anche farle. E tante volte capita che invece poi dopo, alla minima pressione, ti sciogli e non le rischi neanche. Un difetto che abbiamo noi è che siamo lenti, ne fai già la palla, ma per insicurezza, per mancanza di idee. Il problema è che quando sei così, poi dopo vedremo da tutti quanti di mettersi a posto e anche di essere poco efficace e di essere prevedibile. Noi invece dobbiamo tornare a far per 90 minuti poche cose semplici, ma molto veloci. Mister, io ho notato una cosa. Secondo me questa squadra, io sono d'accordo con lei, insomma la difesa 3 secondo me è il sistema di gioco più congeniale delle caratteristiche in questo momento dell'organico. Per la difesa 4 ci vuole più tempo, come aveva detto anche nel mea culpa del post partita di Empoli. Però con questo sistema di gioco è chiaro che devi essere più propositivo, secondo me, con gli esterni. Invece gli esterni sono stati per troppo tempo, nel primo tempo, bassi. Cioè è una questione di mentalità che deve cambiare. La palla deve anche arrivare sugli esterni. Noi invece siamo lenti a farla arrivare sugli esterni. E tante volte dipende, come hai fatto nel secondo tempo, un minimo di intraprendenza va fatta anche dall'iniziazione. Invece tante volte l'iniziazione quasi non la vogliamo. E là dobbiamo essere bravi a giocare. Mister, però no, io intendevo dire nella fase di non possesso. Cioè i due esterni sono già quasi sulla linea dei tre difensori. Oggi no, perché la 9 era più alta. Avevamo usato delle uscite diverse. Qua con il quinto di destra più alto, sul loro terzino, e di qua un pochino più bassi. Poi al secondo tempo invece siamo andati con tutti e due alti a prenderli. L'agio è che quando non hai certe convinzioni, certe sicurezze, anche le cose a volte le fai con un attimo di ritardo. Ed è quello che noi dobbiamo togliere. Noi non dobbiamo pensare, da certi punti di vista dobbiamo pensare da ultimi classifiche, ma non quando abbiamo la palla e quando giochiamo, perché se no veramente poi dopo non giochi più. Invece tu devi giocarti un po' la pari, come hai fatto appunto al secondo tempo. Non è una questione di moduli, di interpretazione, ma proprio di voler fare le cose e di non aver paura di farle. Perché appunto se dobbiamo, l'ho detto anche tra primo e secondo te, ragazzi, ma se dobbiamo morire, dobbiamo morire, però provandoci. Da questo punto di vista, nel secondo tempo l'hai fatto. Non è che il primo tempo non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche al primo tempo. Almeno per il secondo tempo c'è stato un segnale della squadra che ci ha provato. Mister, buonasera. Le volevo chiedere intanto se sta pensando alle dimissioni e poi le volevo chiedere nell'eventualità se questa squadra nel secondo tempo ha messo due persone dietro l'unica punta. Le chiedo anche questa volta. È più utile che si vada a pressare prima gli avversari invece che lasciarli 40 metri di campo e arretrare tutti quanti dietro, perché comunque all'inizio partita Odgaard era sempre da solo, con tutti i limiti di un ragazzo, a mio avviso, non forte per questa categoria, questo mio punto di vista. Però con Setter, con due giocatori dietro di lui, con maggiore persone davanti era forse la soluzione migliore. Quindi un 3-4-2-1, un 3-4-3 a differenza del 3-5-1-1. Grazie. A Odgaard possiamo dargli le colpe, stiamo facendo male tutti quanti. Poi tante volte nel mettere la squadra in campo dipende anche chi è a disposizione in quel momento della stagione, perché tu hai Galano, che è ancora, anche ieri, durante il momento è uscito. Hai Setter che non stai bene, hai Giannetti che è fuori. Quindi i due giocatori offensivi, quei più offensivi che avevi, tranne Capone, li hai messi in campo, che erano Macin e Tabanelli. Poi la collocazione del campo è relativa, perché poi 3-5-1-1, 3-4-3 contano più caratteristiche. Tu in campo c'avi sempre due mezze punte. Quindi non è quello il discorso. È che, appunto, se vogliamo far arrivare la palla davanti, dobbiamo anche iniziare a impostare con più tranquillità e con più sicurezza. Ministro, buonasera. Scusami. Scusami, vai, vai, vai. Stavo pensando qualche gesto eclatante, ovviamente, sono le dimissioni. Ministro, buonasera. Le volevo sottolineare una cosa che lei ha ribadito anche oggi, l'aveva ribadito anche la particolare Regina, cioè il fatto che la squadra non riesce a fare quello che probabilmente è preparato, il pieno partito e ciò che in settimana andrà a studiare. A me implicitamente mi fa pensare che è un po' una forma di impotenza da parte sua, nel senso che io lavoro in settimana, poi arriviamo alla partita e non riusciamo a fare quello. Le chiedo, non pensi di fare qualcosa adesso di diverso, proprio perché il suo messaggio direttamente non sta passando. nel senso che se quello che provate, poi la partita, il Pescara l'ha fatta dopo il trentesimo, quando il Venezia è sceso, chiaramente evidente che è sceso di ritmo, però probabilmente c'è qualcosa che anche lei potrebbe fare, non so cosa, però se il messaggio non passa, ed è la seconda volta che lei, con molta onestà, che io la riconosco tutta, l'ha detto, cioè la squadra riesce a fare quello che poi noi proviamo. Allora, De'Ache non è che è partito solo con l'idea, idee ne hai provate diverse. Forse in questo momento bisogna anche trovare chi è più mentalmente, non dico spensierato, ma più libero e può provare a fare, perché non è che vengono chieste cose impossibili. Si tratta però di metterle dentro e di provarle. A volte le fai con, magari con giocatori diversi, questo sì. Quindi significa anche riformattare un po' la squadra come scelte? No, provare, provare più alternative, perché alla fine non è vero che... A momenti le fai anche, appunto, poi dal trentesimo, non sono d'accordo che le squadre si sono allungate, hai provato a fare qualcosa in più, però l'hai fatto preso dal fatto di essere sotto di un gol. Invece devi farlo sempre, devi farlo fin dall'inizio, devi farlo con maggior personalità, come l'hai fatto un pochino a Empoli. Dobbiamo, appunto, iniziare a farlo fin dall'inizio. Mister, buon pomeriggio. Massimo, se posso, faccio una domanda. Mister, buon pomeriggio. Però, al di là di tutti questi discorsi tattici, eccetera, che trovano appunto un senso fino a un certo punto, data che questa prestazione non è la prima volta che si vede, ecco, io le chiedo, ma quanta rabbia e quanta delusione c'è in lei e quanta rabbia e in delusione c'è in una squadra che oggettivamente ci è sembrata veramente morta, per non dire altre parole. Morta con la regina. Oggi, siccome è morta, l'è fatta per mezz'ora, dopo no, dopo non eri morta. Rabbia e delusione ce ne sono tante, perché alla fine uno cerca sempre di guardare avanti e di trovare soluzioni, e fino a quando non ti arrivano, è logico che c'è tanta rabbia e delusione. Grazie.